Il demonio cammina tra gli uomini sotto mentite spoglie, i suoi passi si sovrappongono a quelli dei suoi ignari vicini, mentre la curiosità e la malvagità lo inducono a contaminare un mondo sempre più fragile. Sottoposta alla minaccia del tempo, Mephistophel è costretto a stringere dei patti con gli uomini, accordi che gettano gli sventurati in un'eternità senza anima. Di questa sorta di maledizione eterna è vittima Johnny Blaze, costretto a convivere dentro di sé con un angelo maledetto, assetato di vendetta. Ispirato dall'omonimo fumetto della Marvel Comics, nel 2007 il film diretto da Mark Steven Johnson aveva sì unito la critica in un giudizio globalmente negativo, ma allo stesso tempo era stato premiato al box office dall'entusiasmo degli appassionati. Un risultato che non sembra destinato a ripetersi una seconda volta per Ghost Rider, Spirito di vendetta, di Mark Neveldine e Brian Taylor. Certo, la natura fumettistica del progetto potrebbe indurre a chiudere un occhio di fronte ad uno stile poco rifinito, ma pur comprendendo e apprezzando il carattere pop delle figure principali, il film appare privo di una guida ben precisa.